COCOMERO! E' STRA COCOMERO! Bella, ma che stai capendo? E' viola, blu viola, blu bellissima 3, 2, 1, GO! Buongiorno Ragazzi e ragazzi Oggi siamo ritornati Qui con un nuovo video Sono dopo fashion Dopo tanto tempo ragazzi Mi sono sentita male Vabbè E siamo ritornati qui Con la recensione Però anche divertimento Perchè si divertiremo Ovvero Apriremo Le nuove paste magiche Crunchy Pasta squishy Pasta squishy Pasta magica Crunchy Costa 3,50 euro E Collezionateli tutti Perchè sono 14 Ma sono uno più bello dell'altro E c'è guardate Qua ti ho scritto Perlata profumata Scoppiettante Cambia colore 2 cambiano colore Aspetta giù 2 cambiano colore Poi Si allunga E rimbalza ai destri Ah E sono C'è pure bicolor Quindi E appunto Cambia colore Tipo questo esempio Tipo questo esempio Ascaldo cambia colore Questo esempio tipo Non si vede Sono due che cambiano colore No Si Ah e bicolor Eh sono solo due che cambiano colore No E basta Vabbè andiamo Andiamo Io prendo Blu a viola Quello lì che cambia colore Io prendo Verde Acqua Verde Acqua C'è grigio però E' grigio Perlato Verde Acqua Non ho visto grigio Perlato Ma tu come fai ad evitare in un attimo? Non so Questo è blu e dovrebbe diventare viola Ma dove? A big bubble Eh non ci riesco Asper Asper Anzi devo aprire Iiii Asperto Grazie Allora vediamo Vediamo Se diventa di un altro dolore con il caldo No mio Dio Guardate Tocchiamo crunchy Oh mio Dio Raga Sono morbidissimi Ora facciamo il caldo Purtroppo lo stretto top E' cavolo E' bellissimo raga Allora sulla confezione Questo dovrebbe essere blu No però lo voglio cambiare colore Aspettate un attimo Vabbè ci proveremo alla fine A me sta pure cambiando Si a me sta cambiando Ma a me tipo il colore dei glitter Se restano due Dopo alla fine ci proveremo Dopo Alla fine A me che succede col fono Il fono è sempre caldo Può essere pure freddo il fono Poi Basta Scrisci il pasta magica Con le perle Basta 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 Vi prendo questo Questo E' sfumat Per me perde acqua Allora Questo vabbè è Fucsia Profumo Elisir Ed è profumo Gliulia Scusatemi Ma che devi fare con Per questa penna Posar? Devo fare questo Vabbè A me è Profumo Elisir Questa servirà a tutte e due, bella Carissima Yes, servirà No, a me non serve perché ho capito dove si apre Io non ho capito No Ma c'è una cosa più bella di questa Dai Che odore Questo è buonissimo Ma ha superato il limite Guardate quanto è bello qui Qua è pure normale Ti adoro, ti adoro Sarai la mia vita Che vita Tu sei la mia vita Il mio cuore, il mio battito Bellissimo Vita Guarda come adoro Vita Cuore Battito Che c'è amo Stai Non mi conta più Dopo alla fine farò la scenetta di vita Cuore, battito Tutto Tutto Vedi Facciamolo C'è non La sorella è proprio Io apro questo Ed è fior di ninfa Guardate quanto è bello Questo qua Guardate come fuori Io adoro Adoro Mi farò tre ore per aprire una scatola C'è pure per una scatola Odore? Arange Allora L'odore è buonissimo Questo L'odore è stupendo A me C'è 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 Raga Ma No vabbè L'odore è stupendo Questo può diventare La canzone Anche un unicorno Un unicorno Ti entra in testa e ti rimane tutto il giorno Un passo avanti Un giro e torno Ci vestiremo tutti quanti I doni in corno Bellissimo A me è morbidissimo Adoro l'odore Quindi forse Tra i miei preferiti Sì Questo quello è stupendo La canzone È un unicorno Io in testa c'è Io ho messo Un po' di pasta Si è tolta Caduta Che incubo Questo è Ma chi c'è Io dolce a braccio E questo è un braccio No ma quale dolce Questo è più di un dolce a braccio Vabbè raga Mi sta facendo andare pasta Questa pasta La sto pregonorando Dal nervoso Mi fa salire Canzone Ragazzi Voi non potete capire Questo sa di dolce Sa di biscotti Sa di quella carabella Ma no raga Sa di una carabella Troppo buona Raga Sa di Cocomero È il suo cocomero Che buono Che buono Che ha fatto venire L'odore del cocomero No no Ragazzù No questo è il mio preferito È pure morbido No vabbè Questo pure è buonissimo Ragazza Tipo di Ma pure la scatola Si è di si profonda No vabbè Micidiale Cioè Ma che Sono incantata Ragazzi sentite quanto Che Sì Aspetta Ferma Ferma un attimo Eh vuoi parlare Sì E dai Giulia Ho detto ti puoi stare un attimo Ferma Io mi devo muovere Dai sentite Fermo Bello Ma rimani muta Madonna Testa 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 No No questo è tra i miei preferiti Cioè Ma Poi alla fine vi dire Buonissimo Il gusto è buonissimo Ragazzi Vedi questo Buonissimo Questo Qual è questo Menta Per ora Ragazzi Per ora I gusti migliori Sono Questo e questo Mi piace Sì A me mi hanno fatto Mi hanno fatto Mi hanno fatto Dall'odore forte Ma proprio No perché Io sono allergico A un po' Gli odori forti Quindi ve lo dico Però questo Da quando Cioè Dalla polvere E dalla polvere Ai profumi forti Ai profumi forti No Vabbè Il ghiacciolo A menta Ma c'è Te lo giuro Satti menta Ma menta forte Che buono Ragazzi Ragazzi Mi fa vedere L'estate Proprio Cioè Vabbè E' la fine Degli slime Questo Ha superato Tutto Ma tutto Cioè Questo e questo Sono le mie preferite Ma che c'è Ma voi dovete vedere Quanto è figa Sto distacco Tra polistirolo E poi La parte normale Di questa Sentite Vita Sentite Ma oddio Ma Guardate Ragazzi Ragazzi fate questa cosa Se non sapete Allora A parte che ci sono le perle Eppure lui Per lato Ragazzi Allora Pace Capito che si trovano in ridicola Però se li prendete Fate questa cosa Cacciateli E fuori E zitta Un attimo Fate questa cosa E' bellissimo Ragazzi Speriamo che un giorno Inventeranno Che su youtube Ci sarà il fatto Che quando uno youtuber Fa un video E lo carica Si anche voi Sentirete l'odore La morbidezza Di questo Cosa Cioè Tu non lo inventa Andiamo avanti Quanti ne 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 avanzano Uno Allora Tu ne ho aperti Due Tre Cinque Sei Io ne ho aperti Cinque Ora sei E Dovici Quindi se ne mancano Altri Due Dopo Io apro Questa No Mi fanno Delle ricordi No Delle ricordi Quelle caramelle Le abbiamo lasciate Perché non le trovate Le abbiamo comprate Poi Le abbiamo comprate Poi Le abbiamo lasciate Alla dentro Perché non le abbiamo Più trovate Nella casa Mamma mia Che male Quelle caramelle Erano Ma Ma Era Mai Sentite Cioè Dovrete sentire Questo odore Ma C'è Ma Che È Il pastello C'è Il pastello Che I colori Pastello C'è Preforforescente Cucotero Nulla Bello È La casa Io prendo Questo Voi Non ho detto Quale prendete Hai capito Te ne abbiamo Avanzato Solo questo Questa No Già l'abbiamo Aperto Già l'abbiamo Aperto Giulia Ascoltami Blu Viola Già l'abbiamo Aperto Manca Questo Sì Apriamo Perché lei Le ha preso Di verso E che fa E perché Sei cattiva Ma Tanto Non le abbiamo Aperti Quindi Però Sono sicura Che tu Ma È uguale Giulia Perché Non le abbiamo Aperto Che Ma Dai Si sente Dalla Scatola No No Giulia No Caramelle Che Quelle caramelle Dolcissime Però Tra questo E questa Mi piace più Questo Mi piace tantissimo Anguria A me Questi due E basta Questi sono i miei preferiti Cioè E poi Questo E questo Non l'ho sentito Questo Poi dopo Li sentiremo E la fine Ciao Baby Ciao Baby Ciao Bye Che bel blu Di vita Di blu Di felice Di stare Lassù E volando Volando In su E color Perla E ci sono le perle Quindi è Extra Però assicuriamo Hanno un sacco Di perle Oh ne Giulia Guarda me Sta volando Le perle Giulia Non me li puoi Stare Addosso Perché Cioè Capito Ha fatta la doccia La signorina Non l'ha spoccata Capito Non l'ha spoccata Spoccata Perché Sennò Faccio male Capito Mi fa male Spoccata Allora Ragazzi Siamo arrivati Al voto Finale Perché Beh Sì Io Come voto Complessivo Non lo so Sinceramente Come voto Di morbidezza Io preferisco Morbidezza Almeno di quelle Che ho toccato io E penso anche Quello di Giulia Quelli là Che cambiano colore Quindi Questi mi piacciono Mi piace la morbidezza Sono morbidissimi No A me questo piace Angoria Ma sto voglio Odore Buonissimo Guarda l'odore Quanto è buono Non riesco Allora Tramonto Tropica Ma che tramonto Ah Ecco perché Il tramonto Tropica Stai Alle Hawaii C'è il cocco C'è il cocce Mamma mia Che bella Invenzione Blu Alla Viola Ragazzi Allora Abbiamo anche Fatto Questa modalità Ovvero Di usare Il fono E noi Vedevamo Usando il fono Vedevamo Subito Che tipo Da blu Diventava Viola Più Per dimostrarvi Per dimostrarvi Che abbiamo fatto Vede pure Un altro verde Acqua Che è simile Vi faremo Vedere Che non è E la prova Che abbiamo Cambiato colore Cioè guardate Abbiamo cambiato colore Noi abbiamo cambiato colore Allora ragazzi Visto che Ovviamente Questo Cambierà di nuovo colore Diventerà blu Però Non perché Voi lo maneggiate Anzi perché Se lo maneggiate Non cambierà colore O comunque Non si farà subito blu Perché Sarà ancora caldo Mentre Se sta al freddo Ovviamente Noi lo mettiamo E noi lo mettiamo Qui dentro E lo lasciamo perdere Ovviamente Guardate Diventa blu Di nuovo Infatti Guardate Lo metto un attimo Sta diventando blu Fighissimo Ragazzi È la meraviglia Delle meraviglie Io vi consiglio Però Di farlo Un attimo Steso E fare La passata di phon Girare E fare La passata di phon Ora proviamo Per un attimo È perché Questa è una superficie Bella fredda Fredda Ora faremo E quindi Girando Guardate Guardate A me Guardate C'è Mentre Visto che Noi abbiamo usato Il phon E si è fatto Caldo Una volta Messa la mano Sopra Diventa di nuovo Viola Però Se noi andiamo A girare È Fede Viola Blu Viola Blu Bellissimo No Ma il mio preferito Sarà Anguria Però Vede come lo chiamano Vedo Ridico il motivo Che lo volete prenderlo Pasta magica Perle profumate Tramonto Tramontro Tramontro Tramonto Tropicale Ed è bellissimo Ragazzi Una cosa Però Io penso Che Anche Un riscaldamento Un bel po' di volte Con le mani Diventa blu Però Noi abbiamo usato Il phon Per fare anche più presto E secondo me È meglio Phon Più c'ha Allora A 3000 like Ragazzi Decidete voi Quali Dobbiamo Mescolare Perché Sì Dobbiamo Mescolarli Sei E noi li sceglieremo Tra tutti No No Iscrivete Tra le anguria E quei Questi qua Che cambiano Vabbè abbiamo anche Bella Ma che stai capendo E ragazzi Sono bellissimi Il mio preferito Sono questi due Perché cambiano Colore Allora Loro hanno dei nomi Molto semplici Ovvero Questo qua Che ha aperto Giulia Si chiama Grigio Pietra E diventa Verde Acqua Mentre Quello Che Il mio Il mio Si chiama Alla fine Sta scritto Blu E poi diventa Viola Quindi Wow Bellissimo E infatti Anche questo È un po' Blu E un po' Viola Comunque A me sarà Sempre questo Comprate Come si chiama Ora ve lo Vi dico Tutto quello Che sta scritto Qua E volete Saperlo Pasta squishy Allora Pasta squishy Pasta magica Perle profumate Tramonto Tropicale Crunchy Nono setta Scoppietta Non fa niente Ribalza Si Modella Quindi vi ho detto Va bene Quindi ragazzi 3 2 1 2 Quindi ragazzi Questo era Il video Spero vi sia piaciuto A me è piaciuto Tantissimo Io vi consiglio Questo Che è il mio preferito Ecco mi si Ma io vi consiglio Questo Perché è bello E se vi è piaciuto Lasciate like Commentate Quando vi vedete E iscrivetevi al canale E a cremire a like Mi schieremo 6 di questi Ma quando Ma io lo metto Con le mani Ma che me lo Non 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 me Allora Ragazzi Quindi Se il video è piaciuto Lasciate like Commentate Iscrivetevi al canale Se non vi è piaciuto Ah E ragazzi Un'altra cosa Iscrivetevi a Instagram Marghe Giulia Kawai Trettino basso Official Su Facebook Marghe Giulia Kawai Real Il secondo canale Maggi Wom Su musica Ricchiazzola Marghe Giulia Sui Se volete Le maglie Le tazze 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 Lei Giulia Insieme a voi Formiamo La magic Family Amore puro Un bacione Mua Ciao Ciao